Kloschard deceduta a Battipaglia, finalmente potrà essere sepolta. Irina, la povera donna ucraina deceduta a Battipaglia lo scorso 30 gennaio, potrà trovare pace. Gli uffici comunali di Battipaglia hanno dato il via libera alla tumulazione presso il cimitero cittadino a spese della collettività. Un atto dovuto dopo che lo stesso figlio della donna residente in Ucraina, martoriata dal conflitto militare, ha dichiarato la propria impossibilità a prendersi cura delle spoglie della madre. Sarà una ditta battipagliese ad occuparsi delle seque della donna, secondo gli accordi con l'ente. La sepoltura costerà 1.291 euro, ma il comune ha dispensato dal versamento di ogni diritto della sopoltura. La 52enne fu trovata esanime nei pressi di piazza Mendola. Nonostante i soccorsi, non vi fu nulla da fare per salvarla. Immediatamente iniziarono le attività per capire chi avrebbe dovuto occuparsi della sopoltura della donna. Per questo fu interessato il consolato ucraino di Napoli, nel tentativo di intercettare la famiglia.